ciao a tutti in questo nuovo video di proviamo cose nuove oggi andremo a provando a provare un altro esperimento di note le mostre veramente come sempre ormai a oggi vi ho portato l'esperimento della monster rehab monster quella java la mostra è praticamente recover adesso è la la mostra super full come esperimento quindi quattro esperimenti di mostre questo è il quinto esperimento di mostre riscaldata come sempre e oggi andiamo a provare con la mostra quella assolto stavolta e oggi avete un po tranquilli vi porto in futuro quando sarà sperando per becca il tempo brutto perché si lo chiude beviò ma non sta provendo ancora non so perché ma lo sperimento dovevo farlo comunque oggi e poi portare più avanti comunque anche quali guardante la ultra la giuice la lewis emilton l'antino rosso cerco di far diciamo per categorie chiaramente adesso come sempre poteva essere con il bicchiere mi aspetterei diciamo un risultato simile alla recover c'è che avviene tipo frizzantina tipo come una caramella occhio riempito tutto il bicchiere adesso andrò e cambia il quadro tenere un'altra stanza andrò a riscaldare o chiede come qui adesso vado a mettere non riscaldare o troppo non voglio far diventare proprio eccessivamente calda non riscaldare un po' ancora no vediamo adesso vedete si perché fa delle bollicine si sta comportando similmente non so se si vede in vita non mette tanto a fuoco similmente alla recover quindi ma il bittile si è sciolto o no o no c'è qualcosa sotto comunque adesso chiaramente ci spostiamo di nuovo là dentro allora quello che sta accadendo è che fa molte più bollicine rispetto a prima e sto notando anche che l'odore sta diventando molto intenso la recover mi pare che non ha fatto questa cosa dell'odore però anche le bollicine si andiamo ad assaggiare similmente si come la recover si sta comportando però devo dire la verità la recover è la più apprezzabile riscaldata questa è decisamente imbevibile è come bere brodo proprio brodo non ha sapore cioè anche se l'odore è intenso non ha sapore c'è letteralmente riscaldata la salt perde totalmente cioè dovrebbe essere una specie di cola ma perde totalmente il sapore ha sì con la leggera frizzantezza come similmente la recover ma il gusto non è a e come bere acqua gasata ora si bevendo questa l'ultimo sosse che ho bevuto adesso leggermente si sentiva è come se desessero sedia di più nel fondo il gusto che dire non è a livelli della recover non è ai suoi livelli non la provo mi spiace ma non vedo di per quanto i battagli un 6 perché ripeto è beve come bere una bibita acqua gasata cioè che è acqua frizzantina con praticamente la tipo al gusto quasi di brodo quasi in quel senso quindi a questa è mostro di energia salt con l'esperimento di riscaldata gli do un 5 su 10 non posso dare la sufficienza perché non è sufficiente comunque scusate veramente questo è il gas va bene ok se il video vi è piaciuto vi lasciamo mi piace e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao